pubblicità questo programma è presentato da buona sera telespettatori di telemia benvenuto nuovo appuntamento del programma 60 news l'argomento di stasera è gli errori dello zilastro di cosmos pramelli l'arresa dell'italia firmate il 3 settembre del 1943 a casibile piccolo borgo in provincia di seracusa dal generale giuseppe castellano e anni e annunciata indifferita all'otto settembre emico ai microfoni dell'ira dal generale pietro badoglio allentò le truffe italiane e al loro destino si salvi chi può in questo volume c'è il resoconto tormentato e commomente di una pagina di storia del secondo conflitto mondiale una cronica della durissima ed eroica resistenza di ciò che rimaneva dell'ottavo battiglione del 185esimo reggimento della divisione in embo del reggio esercito costituito dai giovani ventenni in greggio verde chiamate a fronteggiare il nemico sulla spromonte tra attacchi e incursioni una storia di coraggio di abnegazione che lascia a mutoliti dove la vita e la morte si intrecciano al senso dell'onore e al rispetto della parola della parola data all'amor di patria e alla sportana volontà di donare se stessi il tragico destino dei pa e depara della divisione in embo non lascia assolutamente indifferenti e pone domande sul perché si sia arrivata tanta durezza di cuore benvenuto dottor spramelli e grazie per aver accettato l'invito presso i nostri studi televisivi di telemia buonasera poi grazie a voi e un piacere e un onore essere insieme a voi e ai telespettatori che ci ascoltano e ci vedono il dottor spramelli è un messinesi e un paracatuista è stato per 40 anni in calabria a servire lo stato a difendere le sue istituzioni militando nell'arma dei carabinieri insignito dell'orificenza di ufficiale al melto della repubblica italiana non o che decorato di medaglia d'oro mauriziana e medaglia d'oro di di lungo comando ed è stato consulente della commissione parlamentare antimafia durante la dicettesima legislatura ecco questo è una brevissima biografia del dottor spramelli ma c'è tanto ancora da dire ma mi fermo qua mi taccio e do la parola al dottore per per dirci ecco gli errori dello zilastro questa questa resa dall'italia fermata al 3 settembre del 1943 a casilve piccolo borgo in provincia di siracusa allora entro subito nel vivo di questo libro innanzitutto il libro è stato voluto è stato promosso dal ministero della difesa che ha chiesto appunto all'associazione nazionale nastro verde decorati di medaglia d'oro mauriziana di redigere e compilare questa pubblicazione io ovviamente tra l'altro mi vedete anche in uniforme sociale sono il presidente della regione calabria del del nastro verde appunto dei decorati di medaglia d'oro mauriziana che è stata concessa dal presidente della repubblica per per dieci lustri di servizio impeccabile onorato e soprattutto senza mai essersi come dire di fronte a situazioni delicate tirarsi indietro eccellenti per tutta una vita mai essere stati ripresi dico questo giusto per dire l'associazione non per descrivere me stesso perché non c'è bisogno il libro gli eroi dello zilastro in pratica succede questo che la mattina dell'otto settembre l'alba dell'otto settembre del 1943 400 paracadutisti della nembo in aspromonte sui piani dello zilastro affrontano 5 mila anglo canadesi e non si sono arresi per difendere il suolo patrio dal nemico che allora erano nemici dal nemico che per certi versi avanzava e cercava di giustamente col senno di voi liberare l'italia ma questi erano soldati non erano fascisti non erano antifascisti erano soldati che avevano ricevuto il compito di difendere il suolo della patria i fatti sbarcono in sicilia gli anglo americani c'è bisogno quindi delle divisioni costiere che c'erano di difendere le coste calabrese allora viene inviato tra le altre truppe anche il il reggimento il centottantacinquesimo reggimento nembo la nembo i paracadutisti della nembo proprio la nembo nasce dalle ceneri della folgore la folgore si era immolata a ella la men come tutti sapremo e nel nell'ottobre del 1942 anche lì 5.000 4.000 anglo italiani della folgore paracadutisti della folgore che fermano per due mesi e qualcosa armate corazzate inglesi senza mai arrendersi infatti furono chiamati per questo motivo i leoni della folgore perché churchill dopo questa battaglia disse ma questi non sono soldati sono leoni perché hanno resistito addirittura non è che resistevano solamente attaccavano i carri armati attaccavano e questi morti di fame morti ma quello che poi succederà alla nebb e vanno fanno incursioni di notte rubano carburante rubano e viveri per rubano armi rubano agli inglesi quindi alla fine della battaglia voi pensate che persino l'esercito che ha vinto gli inglesi rendono gli onori delle armi a loro che avevano diciamo così perso quella battaglia e questo è un rito voglio dire antico che solamente il comandante della piazza può dire ai propri uomini appunto che siccome sono degli eroi sono hanno combattuto in maniera ferma si presentano le armi e i reduci di questa battaglia passano attraverso queste queste questo schieramento del nemico che rende le armi quindi rende gli onori a chi ha perso questa è la massima non efficienza che si possa avere in battaglia ma torniamo alla nebb il reggimento 85esimo è formato da tre battaglioni il terzo l'ottavo e l'undicesimo e noi parleremo dell'ottavo perché se intanto si avvicinano a ovviamente interrompetemi quando volete farmi no 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 prego prego dottori e allora sbarcano in dalla dalla puglia sono inviati in sicilia in sicilia verso capo d'orlando capo d'orlando a piedi e con mezzi loro si avvicinano verso messina a messina hanno dei tafferugli con i tedeschi si sparano pure e tra l'altro c'è qualcuno che spara prende un tenente dei paracatutisti ad una bomba a mano e salta in aria lui e tutti quelli che c'erano vicini quindi feriti morti poi si sparano con la marina perché questi volevano passare prima i paracatutisti per andare appunto a posizionarsi lungo le coste calabresi ma non li credono magari questi stanno scappando come scappano tutti ma non era così insomma riescono a passare dall'altro lato con tante peripezie che sono descritte nel libro ovviamente e il il terzo battaglione si posiziona sui campi di melia dove dove sono questi campi di melia sono sopra cittanova cittanova in provincia di reggio calabria siamo sulle montagne di cittanova verso il tirreno a circa 30 40 km da reggio calabria in linea d'aria il l'undicesimo battaglione si posiziona a santa cristina raspromonte e anche lì sono vicini i due battaglioni sempre sul tirreno l'ottavo che è quello che ci interessa si posiziona a merito portosalvo dove c'è appunto a circa 30 km da reggio calabria sulla ionica questo battaglione ha il compito come gli altri due di difendere mi ripeto questo le coste le coste calabria mentre le divisioni costiere scappano infatti in calabria nessuno spara un colpo di fucile scappano tutti l'ottavo battaglione che aveva ricevuto l'ordine rimane lì e tutti gli esploratori che sbarcavano di notte di giorno all'imbrunire sulle coste della ionica non tornavano più indietro mentre dall'altra parte gli esploratori chi sono gli esploratori gli esploratori inglesi sono quelli che una volta non c'erano i droni non c'erano quindi andavano avanti guardavano le posizioni del nemico le forze del nemico e poi segnalavano e attaccavano in tutto questo siccome dall'altra palla tutta la trenica c'era tutto un anche i tedeschi si ritiravano tutti si ritiravano siamo il 3 settembre 4 settembre 5 settembre e intanto gli aerei bombardano bombardano reggio bombardano la provincia mitragliano uccidono e il terzo l'undicesimo e l'ottavo si danno parola che ancora c'era la comunicazione che poi si interromperanno anche le comunicazioni si danno appuntamento a soveria mannelli provincia di cosenza e quindi tutti si ritirano l'ottavo risale risale verso la montagna e la montagna è praticamente lì verso gambarie quindi dalla ionica salgono montagne montagne sino a gambarie abbagalati quindi durante la strada hanno il primo scontro a fuoco serio di con i canadesi che sono intanto sbarcati e lì li fermano per un paio di giorni e cominciano veramente a essere una battaglia uno scontro diciamo così abbastanza serio intanto subito dopo arrivano a gambari anche lì essendo lo snodo di gambari importante intanto erano pure arrivati lì i canadesi all'altra parte allora lì una uno scontro abbastanza come dire significativo e durante la notte ripercorrono i grinali vanno verso santa cristina vanno poi scendono tutta una strada montagna e montagna ovviamente percorrendo sentieri di montagna e arrivano sui piani dello zilastro intanto mentre arrivano ci sono pure il protone di retroguardia che intanto attacca i canadesi che nel frattempo inseguivano questo battaglione la sera del 7 settembre si accampano sui piani dello zilastro si vede dello zilastro si accampano però una piccola premessa ma questi ragazzi classe 1923 quindi avevano tutti i vent'anni tranne gli ufficiali che avevano qualche anno in più erano praticamente affamati perché erano giorni erano stremati da queste battaglie non avevano rifornimenti non avevano viveri non avevano munizioni cioè se non ho sparato non c'era chi portava altre munizioni quindi erano praticamente alla merced di se stessi le comunicazioni erano saltate quindi sti ragazzi di giorno tra l'altro lì c'era caldissimo di notte sullo zilastro e anche prima pioveva quindi sti ragazzi si erano bagnati di notte il giorno c'era caldo siamo a settembre quindi erano veramente stremati questi dovevano raggiungere il comando di reggimento che era a platì platì è sopra bovalino sempre sulla ionica sopra bovalino e praticamente vicino la loglida insomma per chi non conosce questi luoghi però nel frattempo il comando di reggimento si era spostato era andato via pure il comando quindi sti ragazzi erano soli la mattina sono circa all'alba sono tutti circondati loro sono voglio dire posizionati in vari punti dello zilastro a distanza anche di chilometri uno dall'altro cioè gruppi i platoni e le compagnie l'uno dall'altro proprio accampamento tipico dei paracadutisti e allora c'è subito l'allarme intanto intanto i canadesi prendono prigioniero il comandante del battaglione prendono il prigioniero il comandante del battaglione e chi rimane a vedere questa questa scena perché il comandante del battaglione era andato a fare un giro di ispezione con il suo aiutante di campo se non che questo viene preso prigioniero l'allarme di campo dall'allarme va subito dal tenente dal tenente comandante di compagnia e romanato che praticamente cerca di svegliare subito i ragazzi ma i ragazzi sono impietriti allora grida forte savoia savoia e allora tutti si svegliano pigliano le armi il nemico sente savoia e comincia a sparare quindi si sparano questa questa di romanato è una compagnia una compagnia che praticamente si si lancia all'assalto con le bombe a mano con i mapp che un fucile medagliatore in dettazione allora ai paracatutisti e però vanno avanti finiscono le munizioni e cercano anche con a certo punto con con i a un corpo a corpo col nemico il calcio del fucili dei mapp li usano a mo di clava e quindi cercano di farsi strada in questo modo e va bene la tragica scena è che il nemico che sono superiori in armi il numero anche in riposo scappano si indiatreggiano però il fuoco nemico è tanto che uccidono quando il tenente romanato arriva davanti al comandante dell'etemondo dei canadesi viene sopraffatto da tutti gli altri soldati e si arrende e allora c'era con lui un tenente medico che prende le decorazioni li strappa e li butta per terra dicendo abbiamo perso siamo ed è il comandante dell'etemondo che viene descritto come un gran tuomo un gentiluomo prese queste decorazioni e gli disse detto no vi siete battuti da superi soldati e non vi dovete rimproverare di niente e allora i morti il comandante dell'etemondo abbraccia soccorre i feriti abbraccia i paracatutisti che sono sopravvissuti e tra l'altro dice una parola non ammazziamoci non facciamoci la guerra perché siamo fratelli come a voler dire è finita è stato firmato l'armistizio basta è inutile che continuiamo a combatterci e questo è un interrogativo che che poi nascerà insomma farà discutere perché dice ma allora lo sapevano questi che c'era stato l'armistizio firmato il 3 settembre a cassibile provincia di siracusa gli italiani non lo sapevano allora intanto poi ci sono i morti ci sono i feriti che vengono curati e intanto tutto questo assume una pagina di storia scritta veramente col sangue col sangue di ragazzi paracatutisti che hanno creduto nella patria che hanno creduto anche se non hanno creduto nella vittoria hanno creduto nel combattimento per l'onore della parola data nel giuramento dato alla bandiera qui non si tratta di politica non si tratta lo schieramento politico tant'è che succederanno anche i morti rimasti per terra ne parlerò fra fra poco intanto chi qualcuno in ripiegamento va a platini che tra l'altro ha tutta l'assistenza possibile immaginabile dai civili di platini dalle per la popolazione di platini altri vanno a soveria mannelli perché sanno che lì c'è ci sono gli altri due battaglioni che li stanno aspettando e lì per 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 questo lutto quelli soprattutto il maggiore sala mette mette da quello che trova lì per terra a soveria mannelli un tricolore messo sul braccio sull'avambraccio all'altezza dell'avambraccio un tricolore con una striscia nera e con la scritta si fanno scrivere lì per l'onore d'italia quindi per l'onore d'italia che poi viene usato nella repubblica sociale è inventato è messo è attuato è pensato per lutto di questa battaglia poi ci abbiamo che il terzo battaglione e l'undicesimo fanno delle scelte l'undicesimo va con gli anglo americani fedele al re il terzo dice ma io non posso combattere con i tedeschi perché fino a ora siamo stati amici fratelli io vado a combattere continuano la battaglia con i tedeschi quindi due battaglioni si baciano si abbracciano e si dividono le strade ora ci sono i postumi di questa battaglia i morti qui e qui abbiamo delle come dire delle divergenze sulle testimonianze le testimonianze che dicono che i morti sono stati lasciati lì poi messi in una fossa comune poi voglio dire tra l'altro messi lì e ognuno li ha depredati il giorno dopo tanti li hanno depredati e addirittura c'è liberti che descrive voglio dire una situazione che se fosse vera insomma è paradossale brutta insomma veramente questi ragazzi sono morti due volte ovviamente altri dicono che sono stati ricomposti messi ai cimiteri e poi mandati ai paesi d'origine e però però nel 1948 quindi a guerra finita il l'imprenditore a cardo di coppito ma mertina che era appunto un imprenditore boschivo nel tagliare l'albero e quindi scavando ha visto tanti di quei morti seppelliti lì quindi ignari che ha chiamato il parroco di oppilo che era don di masi quando è andato a benedetto quei luoghi e che con il sindaco del paese dottore ha fatto in modo prego dottore volevo volevo leggere una poesia che l'ho trovata in questo meraviglioso libro firmata dall'ufficiale delle brigate paragottiste francese andrea zient e una preghiera una preghiera dammi mio dio che ti ciò che ti resta dammi ciò che nessuno ti chiede mai non ti chiedo il riposo la tranquillità né dall'anima né del corpo non ti chiedo la ricchezza nel successo nella salute tutto questo mio dio te lo chiedo talmente che ormai non devi averne più dammi mio dio ciò che ti resta dammi quello che gli altri rifiutano da te voglio l'insicurezza l'inquietudine voglio la tormentata e la lotta che tu mi dai definitivamente che io sia sicuro di averla sempre perché non sempre avvo il coraggio di chiedertele dammi mio dio ciò che ti resta dammi quello che gli altri non vogliono ma dammi anche il coraggio e la forza e la fede bellissima preghiera bella bella veramente praticamente una preghiera il preghiera della preghiera del paracatutista guerriero che dice dammi o dio quello che ti resta quello che nessuno ti chiede mai cioè che significa quello che nessuno ti chiede mai è quello che tutti quanti che cosa chiedono a dio la salute salute che noi tutti stiamo bene che tutti quanti bene io da paracatutista non ti chiedo questo dammi quello che ti resta nel senso tutto e tutte queste cose le hai già date a me dammi solamente la battaglia di difendere la patria di mantenere il giuramento al mio di mantenere il giuramento che ho prestato il resto non mi interessa posso anche morire e solo la morte questo è il concetto di questa poesia la lascio parlare dottore la lascio parlare ma in questi luoghi dove c'è stato veramente la battaglia luoghi che lei ha citato come platì e poi sono andati a san giovanni in fiore altre parte ci sono qualche e qualche stella in onore di questi eroi caduti veramente nella battaglia oppure lei ha fatto una costruzione in questa pubblicazione che merita di essere a livello nazionale non solo dalle forze dell'occhio dal presente alla repubblica da altre autorevole personalità del mondo non solo politico ma anche religioso militare principalmente militare perché lei ha costruito un fatto veramente eccezionale quello che è accaduto nella nostra zona nella provincia di reggio calabria che fino adesso nessuno ha avuto mai l'idea di fare una cosa del genere lei ha fatto una cosa meravigliosa un lavoro straordinario eccezionale e quindi meriterebbe che questo libro venisse ascoltato e pubblicato anche a livello internazionale prego dottore bene grazie e innanzitutto questo libro l'ha voluto il ministero della difesa quindi ci siamo poi lì nei luoghi della battaglia che sono stati praticamente pensate voi che negli anni 90 la folgore la folgore stessa di cui la nembo fa parte e la folgore tutte le istituzioni non conoscevano questa battaglia e a tuttora quando sono state fatte ricerche perché tutto è basato soprattutto sulle testimonianze le ricerche che sono fatte ricerche storiche che sono state eseguite sono state eseguite con molta difficoltà a tutt'oggi questa battaglia è coperta dal segreto a tutt'oggi quindi è stato difficile ricostruire tutta tutta questa questa come dire la storia antecedente durante e dopo è stato molto difficile voi pensate che la nembo secondo secondo voglio dire insomma le biblioteche dove sono costruiti i documenti militari risultava essere in sartegna cioè dire la nembo in aspromonte per certi versi non c'è mai stata secondo gli archivi ma invece c'era allora ci sono delle cose che sicuramente si approfondiranno col tempo si approfondiranno però ora lì sul luogo della battaglia c'è una stele una stele che ammonisce voglio dire con belle parole tra l'altro scritte da un reddice dei 400 che è morto pochi anni fa ma è stato in vita e tutti gli anni noi celebriamo il questa questa celebriamo non la battaglia in sé perché noi noi come associazione d'arma come tutti siamo per la pace cioè noi analizziamo questo fatto d'arma per poi dire ai ragazzi è brutto però c'è stato e bisogna onorare i caduti di questa battaglia perché non è che questi qui erano volontari che volevano andare a combattere questi sono degli eroi involontari ci sono degli eroi che sono stati che si sono trovati in questa condizione di dover obbedire agli ordini di resistere se ne avessero dato l'ordine di non resistere questi non avrebbero resistito quindi hanno obbedito solamente obbedito una volta io ho chiesto a un anziano molto anziano che adesso anche lui non c'è più ma era già 90 anni 92 anni che aveva combattuto a El Alamein e questo qui che aveva combattuto a El Alamein disse veniva sullo zilato perché noi tutti gli anni celebriamo celebriamo con una messa rendiamo gli onore ai caduti ed è la domenica o l'8 settembre o la domenica dopo l'8 settembre quindi tutti gli anni i paracadutisti si raccolgono lassù e pregano e allora io chiesi a questo paracadutista ma tu perché sei andato in Puglia dopo l'armistizio e non sei andato al nord Italia com'è che hanno fatto altri cioè io volevo capire ma tu voglio dire perché hai scelto questo non hai scelto quell'altro e quell'altro perché non hanno scelto di andare in Puglia invece che andare lì insomma io come cercavo di comprendere anche per le mie curiosità di ricerca storiche e lui mi rispose molto candidamente che è una risposta che fa riflettere io sono andato dove mi ha portato il mio comandante io non ho mai scelto ma come tutti i soldati nessuno ha mai scelto io sto con i fascisti, io sto con gli antifascisti io sono andato dove mi ha portato il mio comandante se il mio comandante invece di portarmi in Puglia mi portava in Lombardia io sarei andato in Lombardia e questo ci fa riflettere come tante situazioni, tante cose brutte che poi sono avvenute siano ricondotte solamente alla volontà del comandante non dell'individuo, non della persona, non del soldato che ha combattuto in buona fede secondo me tranne i cattivi, tranne voglio dire gli assassini ma chi ha combattuto in buona fede ha combattuto pensando di fare il bene dell'Italia e della patria fare il bene dell'Italia e della patria oggi questi valori stanno scomparendo e con il suo racconto dottore ci mette ci orgoglisce che erano veramente i nostri eroi che hanno difeso l'onore hanno difeso la patria hanno difeso l'Italia e quello che diciamo anche a scuola che quelle poche cose che ci sono scritte nei libri di scuola ma questo racconto secondo me andrà adottato visto da qualche anno che è finalmente ritornata l'obbligo dell'educazione civica che possa ritornare nelle scuole a parlare veramente di questi fatti perché i nostri giovani hanno bisogno non soltanto dei social che purtroppo si stanno distraendo sempre di più con i social ma hanno bisogno di questi racconti di questi fatti di cosa è successo veramente nel 1943 con l'ottavo battiglione veramente nella zona tra Bagaladi e Platì ecco queste sono le cose che ci dobbiamo ricordare che bisogna studiare e anche approfondire come stiamo facendo noi stasera grazie al dottor Cosimo Spramelli che erano ragazzi vissuti del 1923 giovanissimi perché questa battaglia è stata fatta nel 1943 quindi avevano appena 20 anni chi 18, chi 20 anni quindi alcuni sono morti purtroppo giovanissimi appena chiamati alle armi subito per difendere la patria sono morti a 18 anni, 20 anni ecco questo è il sacrificio la fratellanza come il dottor Spramelli che nessuno sapeva che avevano firmato l'amnestia a Siracusa in provincia di Siracusa e lo stesso hanno combattuto e poi quando l'hanno scoperto dice finiamola di combattere perché siamo fratelli e non c'è più senso di farci una battaglia perché era già finita nel piccolo casibere e piccolo borgo della provincia di Siracusa si salvi chi può infatti hanno gridato gli italiani al loro destino si salvi chi può insomma ecco è un volume che tocca veramente le vene del cuore stasera con il dottor Spramelli ci sta ancora raccontando e ha anche da ancora da aggiungerci altre cose e lo ascoltiamo con grande gioia bene per esempio c'è stato il tenente Roma Nato che mi ha colpito questo suo sottolineare che praticamente c'è stato un paracatutista che era accanto a lui che è stato ferito però continua a stare accanto a lui nell'assalto e a certo punto viene colpito a morte gravemente questo si gira chiama il comandante e per proteggerlo dalle 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 fucilate che arrivavano da quella direzione si butta addosso a lui lo abbraccia a mo' di prendersi tutte lui le pallottole e Roma Nato diceva io devo tra l'altro anche Roma Nato è stato ferito due volte devo a lui se non mi hanno ucciso quindi c'è un eroismo così come dire per i paracatutisti normale normale c'è una battaglia che ha avuto una sua evoluzione in maniera normale in maniera esemplare e quasi naturale ma lì per esempio c'era il protone mitraglieri c'erano tutti questi che ah e mi sono dimenticato una cosa importante che durante lo sbarco a Scilla ecco questi sono stati chiusi praticamente cioè un reggimento veniva due reggimenti venivano da sotto da Gambani e verso su da Scilla li hanno chiusi da Oppito Mamertina quindi questi erano circondati circondati da queste truppe anglo-canadesi e non hanno avuto scampo ovviamente non potevano avere scampo non potevano avere scampo ma nell'Italia in generale cioè in una situazione più ampia quando tutti scappavano perché scapparono pure i tedeschi i tedeschi non gli hanno detto niente agli italiani che si stavano ritirando quindi anche la milizia costiera era convinta che avrebbe avuto il supporto dei carri armati tedeschi ma i carri armati senza dire la divisione Panzer senza dire nulla agli italiani si ritirano e quindi questi rimangono così ma perché si ritirano? i tedeschi hanno una strategia i tedeschi gli italiani che si ritirano tanti hanno disertato anche perché i militari della divisione costiera erano formati soprattutto da persone calabrese e siciliane e formati voglio dire alla rinfusa non erano addestrati come soldati voglio dire veterani erano lì hanno un corso e l'hanno messi lì armati quindi hanno disertato quasi tutti cioè non è che si sono andati col nemico nemico di allora ma hanno proprio disertato se ne sono andati a casa infatti c'è nel libro c'è recitato di un ufficiale dell'inglese che dice io ho visto queste truppe che scappavano addirittura con i fucili messi così con appeso al fucile una sacca dove dentro gli mettevano qualcosa da mangiare qualcosa insomma proprio e poi dicevo ho incontrato i paracatutisti italiani che invece tutt'altro erano proprio combattenti erano soldati erano veramente sono stati l'orgoglio dell'Italia l'orgoglio della patria quindi questi che scappavano poi alla fine hanno avuto la considerazione del nemico che erano dei vigliacchi perché di fronte al nemico voglio dire cioè chi ha questo o ti arrendi ma non non fai queste cioè butti la giubba perché così non ti riconoscono che sei un nemico cioè queste cose cioè non è lo dico io non si fanno cioè non è non è dignitoso ecco cosa ci lasciano questi ragazzi da Nanembo come come insegnamento non la guerra ma che anche un ragazzo quindi come i nostri ragazzi di vent'anni di oggi cioè possono mantenere fede alla parola d'ala possono impegnarsi che di assolvere i propri compiti per come gli sono stati affidati e in più la bandiera oggi quando si parla di patria la gente si mette a rire ma che è sta patria ecco la patria è quella rappresentata da quella bandiera quindi dal presidente della repubblica in questo caso all'epoca dal re che rappresenta la nazione e quindi la patria e c'è gente che solamente per questo è andata a morire dammi oddio ciò che ti resta ciò che nessuno ti chiede mai io non ti chiedo ma ti chiedo la battaglia ti chiedo e dammela fino a quando io posso avere la fede per credere in te e possa mantenere fede a quello che io sto dicendo non è facile però questi ragazzi lo facevano quindi si può fare ora per esempio in Italia c'era una situazione che io vorrei leggere giusto perché non è una mia considerazione però è una considerazione voglio dire interessante a distanza di otto ore dal proclama di Badoglio sulla Tiburtina a Roma dalle 4 alle 10 del 9 novembre quindi l'armistizio è l'8 settembre chiedo scusa 9 settembre l'armistizio è l'8 settembre circa 80 automobili con tendine abbassate con insegne militari e con autoblindo in testa alle varie colonne percorsero oltre 250 km in direzione di Pescara trasportavano oltre 200 persone delle quali solo 57 si poterono imbarcare nella piccola corvetta che si chiamava Bayonetta la colonna di macchine fu fermata in almeno 5 posti di blocco ma fu sempre fatta proseguire gli aerei tedeschi quindi questi erano gli italiani che li fermavano e li hanno fatti proseguire gli aerei tedeschi che la colvolavano continuamente non fecero fuoco e si limitarono a controllare il percorso cioè a dire gli italiani li fanno andare gli angloamericani che con gli aerei erano li fanno andare i tedeschi li fanno andare solo quando Bayonetta nel porto di Brindisi fu sottoscritta a Roma la resa delle truppe italiane e qui c'è tutto un riferimento riferimento storico al di là di ipotesi più o meno suggestive in merito al presunto accordo i vertici militari italiani non impartirono ordini all'esercito né in Italia né nei Balcani e non impedirono la liberazione di Mussolini forse perché fare cosa gradita a Kessling e a Hitler secondo l'americano che in questi anni operava le dipendenze del servizio segreto militare americano i tedeschi poterono osteggiare più agevolmente lo sbarco angloamericano a Salerno scendendo da Roma con imponenti truppe di rincalzo dopo il ripiegamento ordinato alle due divisioni italiane Ariete e Piato che aprirono alla Panzer tedesca l'accesso alla strada per Salerno in assenza di prove documentali le tante coincidenze fortunate rimangono interrogativi ancora in saluti anche se alimentano forti e terribili dubbi ecco il quesito è possibile che le forze armate italiane siano state abbandonate nel caos più totale in cambio di un salvacondotto per la fuga di quei pochi 57 tra cui il re e anche la liberazione dei Mussolini perché poi pensate se non fosse stato liberato Mussolini non ci sarebbe stata la Repubblica Sociale quindi non ci sarebbe stata la guerra civile ecco ma sono interrogativi che sicuramente voglio dire gli storici io non sono uno storico approfondiranno e sapranno sicuramente trovare una soluzione però ci deve essere serenità serenità nel senso nelle due contrapposte fazioni nelle due contrapposte lo so che è difficile e si capisce che è difficilissimo però se non si ha questa forma di serenità e di riguardare la storia in maniera obiettiva non potremo arrivare a nulla e noi avremo questi stracci chissà quante altre battaglie come sullo Zilo ci sono state in Italia nessuno ne sa nulla quanta gente è stata fucilata e non se ne sa nulla per esempio tante volte parlano di un bombardamento tedesco che è stato fatto sulla Tirrenica ma a livello storico sono stati gli angloamericani a bombardare lì quando non c'è giustizia nella storia poi si rischia appunto l'ingiustizia rischia di alimentare ognuno i fatti sono quelli i fatti storici bisogna dire se anche quelli che non fanno piacere altrimenti è inutile prego Rocco dottore infatti il generale paracoltista Franco Monticone già comandante del Frogore fu tra i primi a conoscere il fatto bravo della Fogare fu tra i primi a conoscere il fatto d'arme che assicurò iniziative commemorative di ricerca fu sua idea perché si realizzasse e si reggesse una stele accanto a quelli degli italiani che stimognasse il valore dei soldati canadesi caduti anche essi nella stessa battaglia e proprio c'è scritto in questa maniera siamo noi i sopravvissuti a dover rispondere a voi che siete nella verità e nella luce voi non avete saputo niente del poi e non avete conosciuto il tempo che passa abbiamo piantato le vostre croce sui sentieri arzi dal fuoco e proseguiamo per la via consce che quelle croce sono sulle nostre spalle vi siete battute perché la libertà forse un bene di tutti offrendo alla patria l'olocausto della giovinezza la fede la luce che non muta a ogni soffio di vento siete rimasti con noi nella memoria dell'amore bellissima bellissima questa questa parte che il generale paradocutista franco monticone ha voluto delicare questa questa stella proprio ai soldati canadesi caduti anche essi nella stessa battaglia degli italiani veramente una cosa veramente bella bella che va ricordata e che la troviamo nel libro del dottor Cosmos Frameli a pagina 148 vi consiglio ecco dottore apri e chiudo la parentesi se uno lo volesse acquistare il libro dove lo troverebbe e dove lo potrebbe acquistare adesso è distribuito in tutte le librerie almeno l'editore è Falzea di Reggio Calabria e tra l'altro è su Amazon già disponibile insieme a tutti gli altri libri che ho scritto per chiunque volesse approfondire e vedere insomma questa in questo caso la battaglia è facile voglio dire averlo ma su Monticone vorrei dire una cosa perché lui è stato un grande generale della Folcore lui si è sensibilizzato lui non sapeva di questa battaglia ed è stato il generale chiedo scusa il giornalista Delfino a dirgli di questa battaglia perché questa battaglia era raccontata dai pastori questa battaglia i carabinieri la conoscevano i carabinieri di allora e il papà del giornalista Antonio Delfino era Massaro Peppe che era il comandante della stazione allora di San Luca e aveva sposato a Platì quindi conosceva i fatti di questa battaglia e poi tantissime le armi sono andate a finire di questi ragazzi bisogna anche dirlo tra parentesi che sono andate a finire all'Andrangheta tant'è che tanti Mab che noi ritrovavamo negli anni 80 non si comprendevano da dove venissero perché in nessuna caserma risultavano rubate queste armi nessuna caserma d'Italia quindi ma da dove vengono queste armi ed erano di questa battaglia che noi non lo sapevamo neanche Monticoni quindi fu informato dal giornalista Delfino approfondì e poi siccome si è proprio calato in questi ragazzi in questa sofferenza in questo sacrificio ha approfondito ha visto che non c'era nulla quindi poi gli approfondimenti storici arriveranno dopo però fece una cosa interessantissima cioè dire fece arrivare il marmo da Carrara e lì a tutt'oggi c'è questa stele e questa stele che appunto recita c'è una una frase interessante vediamo se riesco a trovarla eccola qua scritta da uno dei quattrocento qui sullo Zilastro epigoni di una guerra disastrosa l'otto settembre 1943 suscitando l'ammirazione e il rispetto delle preponderanti forze anglo-canatesi i quattrocento paracatutisti dell'ottavo battaglione del centottantacinquesimo reggimento della divisione Nembo combattendo per l'onore della patria si coprirono di gloria questa praticamente questa stele che che ancora oggi è lì e tutti i passanti si fermano dicono una preghiera che ho visto io e tanti si fermano si inginocchiano pregano perché lì in quella terra c'è stato versato il sangue dei nostri soldati in più stavo dicendo prima di Accardo quando benedirono quei luoghi poi hanno eretto il famoso crocefisso di Zerbò il grande crocefisso di Zerbò che nella copertina nella copertina verde nella copertina del libro di colore verde si intravede questo crocefisso che è stato eretto per la battaglia cioè la battaglia questo il sindaco e il Accardo per quanto per quanti quanti morti hanno visto hanno eretto per per dare come dire impietositi da ciò che hanno visto hanno eretto questa battaglia questa questa croce grande questo grande crocefisso il crocefisso se voi notate nella nella copertina ha un buco qui perché è stato come dire ferito da un colpo di fucile questo crocefisso aveva una pallottola al fianco al fianco sinistro Gesù Cristo ce l'ha avuto al fianco a destra questo questi chi ha sparato un vile sicuramente ha ferito per così dire ferito il crocefisso al fianco non so se si vede ma è un po' fuscato però insomma non ce l'abbiamo noi la sta facendo vedere il regista la sta facendo vedere il regista la canzone si 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 e questo crocefisso appunto è cosiddetto di zerbò ma è dello zina insomma tutti lo chiamano il zerbò compreso io è stato eretto per questa battaglia anche questo crocefisso in più da circa tre anni fa viene a commemorare viene sui piani dello ziastro l'addetto militare dell'ambasciata canadese a Roma l'addetto militare quindi noi tutti gli anni abbiamo l'addetto militare che e c'è anche nelle foto l'addetto militare a rendere gli onori ai caduti italiani e canadesi e noi da tre anni rendiamo gli onori ai caduti canadesi e italiani anche lì sono stati adesso scritti i nomi dei canadesi caduti quindi non c'è ecco la pacificazione la pace non c'è chi è stato più bravo chi è stato peggio non c'è chi chi ha difeso la brava perché come scrivo io tutti hanno difeso la patria perché ognuno di loro era stato inviato lì per fare il primo dovere e per servire la propria patria quindi i soldati infatti i soldati hanno rispetto e onore e rendono gli onori ai soldati che si sono comportati tali io mi ricordo per esempio che tanti prigionieri mi ricordo veramente stavo dicendo della drangheda che aveva sempre più rispetto dei carabinieri che facevano il proprio dovere anche quelli più duri quelli più però quelli che veramente credevano nell'onore e nel proprio dovere avevano più rispetto non avevano rispetto per chi tradiva l'arma per chi ha tradito l'arma per chi ha tradito la polizia per chi ha tradito la propria istituzione perché giustamente pensano ma questo anche in guerra ma se tu tradisci la tua istituzione che ti dà per così dire da mangiare ma figuriamoci se poi non tradirei pure me quando non avrai più bisogno di me quindi la fiducia non c'era la stima non c'era cioè quando uno tradisce non è una cosa voglio dire tradisci bravo vieni con noi no non era così ecco e questo è anche in una situazione di vita quotidiana di vita quotidiana perché voglio dire l'andrangheta sì ha potuto avere tutte queste armi con i sequesti di persona quando fermavano le persone in Aspromonte per prelevare gli soldi ci ne scrivevano sempre questo crocefisso grande che vedevano i sequestrati dice ma io quando sono stato spostato mi aveva un grande crocefisso ed era questo di Zervo quindi lì perché perché proprio lì perché lì è un croceria cioè da una parte c'è il tirreno dall'altro c'è lo ionico il crocefisso dalle spalle a polsi quindi siamo montalto polsi ionica tirrenica e dall'altro lato c'è continuando ci sono le serre quindi quello è proprio uno snodo importante allora quando spostavano i sequestrati adesso non c'entra nulla con il libro però e sono sempre luoghi dove sono incessi questi fatti perché la spromonte lo zira è ricordato anche per fatti brutti anche se la spromonte è veramente un paradiso naturale che il padre non ci ha concesso è una cosa bellissima però gli uomini non l'hanno saputo apprezzare così tanto e lì sono state consumate tragedie veramente eccezionali andate alla battaglia ma anche con i sequesti di persona con gli omicidi su in montagna voglio dire ci sono state dei fatti veramente brutti come i sequesti di persona a scopo di estorsione i bambini sono stati tenuti in catene lì è stato liberato c'è la donna che praticamente proprio lì vicino la battaglia dove praticamente una notte è stato liberato c'è la donna che pesava alto 1,90 pesava 30-40 kg quando è stato liberato era stato tenuto in una buca per due anni in una buca con catena al collo ai piedi e lui raccontava che faceva sempre la battaglia contro i topi perché i carcerelli gli davano da mangiare il formaggio e i topi di notte andavano e se lo volevano mangiare e lui lottava con i topi affinché non gli mangiasse il formaggio pensate voi ecco quindi questa è la spromonte questa terra che è stata abbagnata da tutta questa sofferenza sacrifici però però ci lascia sempre una speranza di pace perché anch'io ho combattuto la mia battaglia per 40 anni ho servito l'arma dei carabinieri e consentitemi ho servito la patria e l'ho servito avendo un privilegio di servirla in armi servire la patria in armi significa essere pronti a morire per essa senza mai nulla chiedere in capo e io non ho mai chiesto bello 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 questo bello infatti il nostro tempo a disposizione dottore è finito purtroppo è passato è passato l'ora della trasmissione io la ringrazio sicuramente torneremo ancora in questo argomento la inviterò prossimamente perché vale la pena ascoltarla è sempre interessante quello che scrive quello che dice insomma è un saggio uno scrittore è veramente un servitore dello Stato come lei stesso ci ha sottolineato ricorda ai telespettatori che il dottor Spramelli Cosimo è un messinese paracatturista ed è stato per 40 anni in Calabria a servizio dello Stato a difendere le istituzioni militando nell'arma dei Carminieri insegnato dell'officienza di ufficiale al merto della Repubblica Italiana nonché decorato di medaglia d'oro mauriziana e medaglia d'oro di lungo comando è stato consulente della commissione parlamentare antimafia durante la 17esima legislatura grazie dottore per la sua partecipazione il nostro tempo a disposizione è terminato rimanete sul canale 13 per proseguire i nostri programmi di Televia questo programma è presentato da pubblicità pubblicità per la sua partecipazione per la sua partecipazione